Amici del Bardo, bentornati alla prima stagione di 21 giorni di noi. Oggi il tema è la divisione dei roster TABWI, quella più recente. È stata una buona idea? E che diciate sì o no? Perché? Avanti, fatemelo sapere, scatenate l'inferno qua sotto nei commenti. E ricordatevi che 21 giorni di noi torna domani puntualissimo alle ore 15.